È fruttato un bottino da diverse decine di migliaia di euro il colpo messo a segno a Benna nelle ultime ore. Sono ancora in corso le indagini per dare un volto ai responsabili di un furto commesso all'interno di una filatura. Classica la dinamica, con i ladri che hanno forzato il portone d'ingresso per entrare all'interno del capannone. I malviventi da una prima ricostruzione sarebbero riusciti ad impadronirsi di un ingente quantitativo di materie prime tessili. Bottino importante con lana, lino e nylon prelevati dall'azienda. Sul fatto ora indagano i carabinieri di Biella. I ladri nella notte dell'Epifania avrebbero preso di mira il magazzino della filatura pettinata garden fill di Benna e dei primi rilievi effettuati dai carabinieri sarebbe emerso come i malviventi con probabilmente l'utilizzo di un forgone si sarebbero impadroniti di una grandissima quantità di filati di varie tipologie.